Torniamo in onda con la nostra rassegna stampa e andiamo a vedere i titoli che arrivano dalla capitale dopo aver visto appunto gli aggiornamenti dal web con la manifestazione odierna e il Corriere della Sera nel suo inserto apre in questa maniera un PM antimafia per Marino. Arriva l'assessore alla legalità, sarà Alfonso Sabella, ha catturato Bagarella e Brusca, questo il suo curriculum. Un super magistrato per gli appalti di Roma con la delega alla legalità arriva in giunta Alfonso Sabella che fece parte del pool antimafia di Palermo diretto da Giancarlo Caselli che vanta arresti eccellenti come Leo Luca Bagarella e Giovanni e Enzo Brusca. Il sindaco Marino ha annunciato di rifiutare che la scorta e ha sottolineato che l'assemblea capitolina era lenta e ora invece non lo è più. Vediamo anche l'ira di Pelosi, socio della Coop, a Buzzi sputo in faccia, questo il virgolettato e andiamo a leggere anche un pezzo dell'articolo che troverete all'interno del giornale del Corriere della Sera. La rana è una furia, ha seduto davanti all'aula del riesame, risponde sarcastico ai cronisti, fra le trame riportate a galla da Mafia Capitale c'è anche un pezzo di vita di Pino Pelosi, nove anni per l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ufficialmente irrisolto. Lo stesso Pelosi è stato ascoltato come persona informata dei fatti dieci giorni fa dal PM che indaga Francesco Minisci, socio della cooperativa di Buzzi. Vediamo poi i conti in rosso, il commissario del Tribunale a EUR SPA che ha chiesto al Tribunale di Roma il concordato per far fronte ai conti in rosso dopo la decisione dei soci Tesoro e Comune di non coprire lavoragine nei bilanci. Arriverà dunque un commissario del Tribunale a supervisionare la gestione e sempre più incerto il futuro della nuvola di Fuxas. Vediamo anche questo approfondimento legato ai trasporti con i nuovi treni per i pendolari, 8 mila posti in più, il primo è già in viaggio da ieri sulla Roma Nettuno ma ne arriveranno altri 14 sulla tratta tutta la rete di fatto ferroviaria regionale. Buone notizie quindi per i pendolari, prolungamenti nelle tratte, aumenti nelle corse, più carrozze nei convogli da e per Roma e 8 mila posti in più già la domenica con l'entrata in vigore dei nuovi orari. A lato troviamo l'urlo del mister giallorosso Rudy Garcia, pensiamo allo scudetto, quello è l'obiettivo, a gennaio potrebbero arrivare dei rinforzi e quindi vedremo di fatto come si comporterà la squadra giallorossa e soprattutto il DS Walter Sabatini. Non lascio Piazza Navona all'illegalità, cambiando argomento si torna a parlare di Befana, il mini sindaco Sabrina Alfonsi ha dichiarato proprio questa volontà di non mollare gli operatori del mercato di Piazza Navona. Ieri hanno chiesto in consiglio municipale le dimissioni della presidente Sabrina Alfonsi, è un motivo in più per restare, ha ribattuto lei. Il 19 il Tar darà parere sul ricorso degli ambulanti, vedremo se qualcosa cambierà oppure se invece rimarrà questo provvedimento che tanto ha infastidito i venditori ambulanti di Piazza Navona. I Nobel della pace si riuniscono a Roma, vertice in onore di Mandela, il Dalai Lama dice niente incontro con Papa Francesco, è arrivato a Roma per partecipare al summit dei premi Nobel per la pace ed è stato accolto calorosamente con striscioni a musica tradizionale dalla comunità tibetana italiana. Nessuna contestazione come si temeva per il Dalai Lama che è già stato varie volte nella capitale e si è sempre sentito il benvenuto. Andiamo appunto avanti con mafia capitale sulla Repubblica, le mani dell'endrine su Ama Multiservizi, ancora due arresti, sequestrate società della Galassia Buzzi, il patto Coop Clan per le pulizie al mercato dell'esquilino è giunta a Marino con il giudice Sabella che sarà assessore alla legalità. Ancora il Campidoglio da sciogliere, questo l'interrogativo, due mesi per decidere è la risposta. Il cupolone rimane al buio, lavori in corso presto le nuove luci al Vaticano con illuminazione per 40 chiese e dall'EurSPA Conti in rosso arriva il commissario. Entro 60 giorni dovrà essere fatto il piano di ristrutturazione. Andiamo poi a vedere i titoli sul messaggero Ostia Litorale che apre in questa maniera comune un PM nella giunta, quindi si pensa nuovamente a quanto sta decidendo il sindaco Marino con la scelta di Alfonso Sabella come assessore alla legalità. Per l'opposizione si tratta di pura demagogia. Il sindaco rinuncia alla scorta, il dossier sulla corruzione costa alla città circa 650 milioni all'anno. Nel mercato controllato dal clan della mafia romana ci fa paura, all'esquilino non andiamo più da mesi, è sporco e non è sicuro. Questi i residenti del rione stromessi dagli storici banchi che preferiscono andare fino a testaccio. Sulla questione a Palti c'è il rischio del commissariamento stop alla gara Ater. Per Pecoraro vanno fatti controlli sulle assegnazioni. Bloccato il bando per l'edilizia pubblica. Ancora da Nettuno Pendolari arriva Vivalto da Otto Carrozze e da Ostia invece addio alla scuola aria affidata alla Caritas. Andiamo anche all'interno del messaggero dove troviamo appunto questa notizia che arriva da Ostia. Do Remy l'area alla casa d'accoglienza mentre dal decimo municipio si continua a sostenere di voler ricostruire l'ex materna Roma Capitale concede il terreno. Il comitato dei genitori informato solamente dalla Caritas dal 6 novembre il lotto è stato affidato per costruirci l'ostello. E ancora l'ente diocesano disposto a pagare la bonifica eseguita invece dal municipio. Sulla Roma Lido ancora Singhiozzi. I pendolari denunciano 220 mila chilometri treno in meno. Ieri corse saltate nell'orario di punta e centinaia di studenti arrivati a lezione con pesanti, pesantissimi ritardi. Andiamo a Pomezia con l'ex sindaco Angelotto che afferma troppi appalti senza gara, troppi lavori concessi senza gara e con affidamenti diretti. E questa è la segnalazione presentata da Pietro Angelotto, ex sindaco della città e cittadino elettore, come preferisce definirsi, al responsabile dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, al sindaco Fabio Fucci e al segretario generale Tullio Di Ascenzi. In particolare Angelotto prende di mira gli affidamenti diretti concessi dal dirigente ai lavori pubblici Renato Curci che in due anni, nel 2013 e nel 2014, sono costati alle casse municipali 1 milione e 800 mila euro. Una pratica secondo l'ex sindaco che, sebbene legale, andrebbe tuttavia contro le indicazioni fornite dalla Giunta 5 Stelle nel piano triennale anticorruzione dove si condanna l'utilizzo improprio dell'affidamento diretto attraverso il frazionamento artificioso degli appalti, riporta il piano, anche quando ricorrono i presupposti per una tradizionale gara pubblica. Angelotto chiede poi al sindaco di ruotare alcuni dirigenti che da anni si occupano esclusivamente di settori strategici dell'amministrazione. Era stato lo stesso Fucci qualche mese fa, ha detto l'ex sindaco, a giustificare in Consiglio Comunale lo spostamento di un funzionario facendo riferimento alla norma anticorruzione. La legge deve essere valida per tutti e non solo per qualcuno. Al momento, né primo cittadino, né assessori, né il segretario generale che è anche responsabile anticorruzione, rilasciano dichiarazioni sulla segnalazione di Angelotto. Andiamo poi a Torre Maggiore dove troviamo un patto per strappare questa area al degrado. Progetto di ricerca e valorizzazione tra Comune e Associazione Lazium Vetus e la Sapienza. Da Pomezia ci spostiamo sul quotidiano di Latina dove il titolo principale è questo, la fuga delle intercettazioni, sedicente agente del Mossad sorpreso con le trascrizioni di procedimenti in corso, a spasso con le conversazioni registrate dagli inquirenti Pontini. Vediamo anche la foto a centropagina, i ganci dell'Andrangheta arrestati i due calabresi che tenevano i contatti con le copp di Buzzi ieri mattina al blitz del Ross ad Aprilia, sequestro delle quote della 29 giugno. Andiamo all'interno per occuparci di quanto accade a Nettuno. Chiarezza sul multipiano commercianti in corteo è accaduto ieri pomeriggio, sfilata per le vie della città e sit in fuori dal Comune. Il sindaco e i due assessori hanno assicurato che i lavori riprenderanno a gennaio. Qui li vedete davanti al Comune con gli striscioni, i commercianti sono stanchi di non essere ascoltati. Basta con le promesse vogliamo i fatti, l'altro striscione che vedete in queste due immagini. Andiamo poi ad Anzio con l'impegno di Fratelli d'Italia e AN per la sicurezza, tutto pronto per la mobilitazione sulla sicurezza organizzata dagli esponenti di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale di Anzio. A partire da domani un presidio notturno permanente vigilerà su diverse zone della città. Si inizierà con la centrale Piazza Pia per poi passare alla zona di Lavigno Stazione e a tutti gli altri quartieri periferici. Una manifestazione di protesta che comprenderà attività ispettive come le ronde a carattere utile e pacifico, come aveva affermato Romeo De Angelis, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia AN, per confermare la nostra semplice presenza sul territorio. Andiamo ad Ardea poi con il maxi intervento sulle strade. Decine di vie saranno sistemate lungo tutto il territorio. Dal municipio sono partiti i primi ordini di servizio per la ditta appaltatrice. Nelle scorse ore dal Comune era stato annunciato l'imminente avvio dei lavori di sistemazione di alcune delle principali arterie del territorio. Ieri, a tal proposito, sono partiti anche gli ordini di servizio per la ditta appaltatrice del maxi intervento di restyling, la MB 77, volti a dare un nuovo volto alle strade del territorio. Secondo il primo ordine di servizio disposto dall'area lavori pubblici alla società vincitrice dell'appalto di manutenzione ordinaria delle strade sul territorio di Ardea, hanno fatto sapere dal Palazzo Comunale, sono state ordinate con urgenza le lavorazioni di compianamento delle buche di alcune vie con la pulizia, la stesura del primer, la posa in opera dell'asfalto e la relativa compattazione con ballerina o rullo. Queste dunque le strade interessate dal primo ordine di servizio, via Laurentina, via Le Nuova Florida, via Pisa, via Livorno, via Godizia, via Strampelli, via Niso, via Camposelva, Largodine, via Venezia, lungomare degli Ardiatini, via Le San Lorenzo, via Dei Tassi, via delle Pinete, via Le Nuova California e altre vie centrali. Toccherà poi ad altre zone e seguiremo questi lavori per capire se verranno realizzati ad opera d'arte. Quartiere Europa, nasce il blog del Comitato, sempre da Anzio, iniziativa dell'ente presieduto da Mazzi. A Lariano, fermato il 59enne Fabrizio Cenciarelli, la polizia di Velletri indaga sul movente, spara al fratello in pieno giorno, terrore, invia 100 gocce, esplosi 6 colpi di pistola, 3 sono andati a segno. Vediamo a centropagina poi la foto del sindaco Alessio Chiavetta, il sindaco di Nettuno, in compagnia di Ignazio Marino, sindaco della Capitale, e Francesco Chiucurlotto, la città metropolitana e i comuni. Marino ha incontrato Chiavetta e quindi importante questo meeting sul fronte città metropolitana. Soluzione radicale per eliminare il guano in centro, a Nettuno, potature contro gli storni, e vediamo un'immagine appunto della celebre statua che si può trovare appunto a Piazza Mazzini. e ancora da Velletri troviamo questa notizia nel box a piedi pagina e il titolo è il seguente, sarà un'assise fitta di mozioni e interrogazioni, quella convocata per stamattina a partire dalle 9.30 nella sala consigliare appunto di Velletri. L'ordine del giorno infatti prevede la discussione di due interrogazioni di Paolo Trenta volte a far chialezza sull'allargamento del piazzale della stazione ferroviaria registrato lo scorso 15 di novembre. Vediamo brevemente anche i titoli del giornale di Latina, tre tecnici, il resto è tattica. Si parla della giunta comunale nominata da Di Giorgi, a due mesi dalle sue dimissioni è stata varata questa nuova squadra con tante incognite, tra le new entry l'ex prefetto La Rosa e Franca Lancia, il vice sindaco è Tiero, quindi questo è il titolo più importante. Siamo in chiusura per quanto riguarda il nostro spazio dedicato all'informazione, ma vi lasciamo con una dichiarazione del presidente di Aeranti Corallo che riguarda tutte le televisioni locali, si parla di normative, si parla di futuro e di provvedimenti che di recente sono stati presi dal governo e che in qualche maniera riguardano proprio il futuro delle televisioni locali come la nostra. Quindi vi ringrazio per la cortese attenzione e arrivederci alla prossima edizione della nostra Rassegna Stampa. Le recenti scelte legislative sulle imprese televisive locali che sono state adottate su iniziativa del governo stanno mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e il pluralismo dell'informazione sul territorio. In particolare sono 144 le imprese televisive locali che devono a breve dismettere le frequenze di trasmissione, cessando la propria attività in relazione ad asserite problematiche interferenziali con i paesi esteri confinanti. E questo nonostante che tali frequenze siano state assegnate alle emittenti dallo Stato italiano negli anni 2011 e 2012 per la durata di 20 anni a seguito di specifiche gare. Inoltre, in base a un emendamento formulato dal governo nell'ambito del disegno di legge stabilità per l'anno 2015 vengono incomprensibilmente rimesse ancora una volta in discussione le posizioni numeriche sul telecomando che da oltre quattro anni contraddistinguono ogni televisione locale causando così un rilevante disservizio per l'utenza. Diversamente, l'emendamento del governo non prevede alcuna ulteriore modifica di numerazione per le televisioni nazionali. Un'altra grave criticità che riguarda in questo caso le televisioni locali che non sono soggette alla dismissione delle frequenze è quella conseguente alla recente definizione da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei nuovi criteri per la determinazione dei canoni dovuti per l'uso delle frequenze di trasmissione. Criteri che comportano un enorme aumento degli importi dovuti dalle televisioni locali e allo stesso tempo una riduzione degli importi dovuti dalle principali televisioni nazionali. Tutto questo è a nostro parere inaccettabile. In questo modo, infatti, il comparto delle televisioni locali rischia di sparire. Viene compromesso il pluralismo informativo sul territorio e l'occupazione di migliaia di lavoratori è a rischio.